come spesso capita in questi casi si gioca quasi meglio 11 contro 11 che non in 10 giocare tutta la vita contro 10 è una bugia è chiaro che uno si vede meglio sono due punti persi che possono non dico compromettere ma comunque ovviamente no esatto è un inizio un po è un inizio un po no magari a rilenti la vittoria del campionato perché l'ha detto qualcuno che noi dobbiamo fare assolutamente bene perché siamo nelle possibilità di poter fare bene perché la squadra è stata costruita per poter fare insieme a che il campionato sia più in braccio perché ci sono squadre che stanno facendo bene molto lungo e quindi dal punto di vista lì sono sereno sono arrabbiato oggi perché si poteva fare meglio dal punto di vista professionale sono sereno insomma è una squadra so che il tipo di squadra ho e quindi devo riuscire a fare ancora meglio cosa è mancato mister nel secondo tempo? abbiamo fatto girare la palla con poca velocità e soprattutto abbiamo sbagliato dei passaggi semplicissimi che dà un fastidio grazie a tutti